ben ritrovati amici di mattoscacco continuiamo a seguire l'italia negli europei di scacchi ieri come avete visto non ci sono stati video commenti per quanto riguarda l'europeo perché c'è stato un giorno di pausa anche gli scacchisti si devono riposare andiamo a vedere come è andata qui davanti o la giornata del dell'italia maschile dell'open e hanno fatto un 2 a 2 con l'israele come potete vedere era una partita combattuta se guarda i punteggi dei nostri dei loro avversari sono praticamente molto simili quindi il risultato è diciamo più che più che corretto una vittoria uno sconfitto due pareggi e con questo pareggio l'italia maschile si classifica 25esima su 40 squadre 40 nazioni andiamo a vedere com'è andata invece la sezione femminile il femminile purtroppo non è andata particolarmente bene come sfidante avevano l'azerba gianne squadra che è già capitata al maschile e tra le favorite l'azerba gianne attualmente terza in classifica e purtroppo è riuscita a ottenere la meglio sull'ultima scacchiera pareggi nelle altre classifica attuale dell'italia femminile è settimo posto c'è ancora secondo me speranza per riuscire ad arrivare sul podio poiché l'azerba gianne ha 9 punti e noi siamo a 7 secondo noi secondo me ce la possiamo fare ma ora andremo quindi a commentare una partita del maschile giocata fra lorenzo lodici o lodici con i bianchi e spero insomma di riuscire a dare il meglio perché per me non so se si è capito questi queste persone sono degli extraterrestri che vedono cose incredibili io chiaramente qui ho l'aiuto del computer che mi aiuta parecchio e con il nero abbiamo buruk borukoski 2542 punti elo qui qualcuno mi ha dato perché lorenzo c'è scritto im perché siccome la norma di cioè il titolo di gran maestro l'ha raggiunto abbastanza recentemente probabilmente c'è spunto com non è ancora aggiornato quindi invece gran maestro andiamo d4 cavallo f6 c4 e 6 cavallo c3 alferi b4 difesa nizzo indiana abbiamo detto che ad alti livelli la si vede sempre probabilmente quella che ha la maggior statistica di riuscita per quanto riguarda il nero e quindi l'ero cerca sempre di rientrare in questo tipo di difesa ma ora c'è una sorpresina adesso che cosa vediamo giocare possiamo vedere giocare donna c2 e3 cavallo f3 di tutto l'alfile in g5 in f4 di di tutto si può giocare ma adesso lorenzo ci sorprende con f3 questo tipo di variante ha un nome particolare credo si chiami variante kmok e chiaramente quando si fa f3 e si ostruisce la via di sviluppo naturale al cavallo perché si vuole sostenere la spinta in e4 e quindi grazie a questa spinta con un controllo sul centro fortissimo in partita il nero gioco c5 che una delle varianti principali a questa variante continuazioni principali questa variante ma supponiamo che qui il nero avesse giocato un tranquillo a rocco corto questa mossa avrebbe permesso un grandissimo controllo sulle ops questa no sbagliata sulle case centrali non solo chiaro qui il nero avrebbe cercato di fare qualcosa qualcosa come d5 dove attacca su due pedoni ma ora noi abbiamo e5 attaccando sul suo cavallo che deve ritirarsi e il cavallo qui non può andare qui non può andare qui sembra assolutamente inutile quindi deve ritirarsi in una di queste due case e a seguito di questa il bianco può continuare la propria spinta ritrovandosi con questa ottima struttura pedonale tra l'altro a seguito per esempio non so chiaramente non nell'immediato ma prima o poi questa cattura probabilmente ci sarà questa struttura pedonale sarà molto forte e il nero non converrà mai catturare qui poiché ci sarà l'alfiere che insomma carina carina come variante e bisogna cercare a mio modesto parere di uscire dalle solite linee per cercare un pochettino di sorprendere l'avversario perché qui il gran maestro sa tutto di tutto cercare magari di entrare in quella variante secondaria magari riesci a ottenere quel piccolo vantaggio di un'apertura che te lo porti poi fino al finale ahimè il nero era preparato c5 d5 fin qui tutto tranquillo adesso b5 ho verificato che fa parte della teoria che chiaramente non conoscevo fino a qui b5 gioca sul fatto che questo cavallo è inchiodato non si può andare ad attaccare lì e se andiamo a catturare col pedone è un disastro ora questo pedone si può veramente catturare facendo leva sempre sull'inchiodatura ed è devastante anzi qui il computer consiglia addirittura di catturare col pedone in e quindi non conviene non conviene catturare questo pedone tant'è che la partita va avanti con e4 si è delineata questa struttura pedonale vediamo come continua d6 mossa principale e alfiere d2 per togliersi finalmente dall'inchiodatura e eventualmente seguito di un cambio in un futuro l'alfiere potrà posizionarsi in c3 a6 a4 adesso c'è parecchia tensione su questo pedone centrale e alfiere a5 su alfiere a5 viene giocata re f2 questo è un po' diciamo alla genialata di questa partita scommetto che ti saresti aspettato una mossa come a per b5 a per b5 e cavallo per b5 e dopo però questa mossa c'è un problema che la torre è controllata dalla donna quindi se noi attacchiamo di donna perdiamo semplicemente la partita quindi qui bisogna andare a catturare di re cosa c'è di male mi dirai niente perché comunque il centro è abbastanza bloccato però capisci che avere un re al centro che ostruisce un pochettino la donna eccetera eccetera che posizionato tra l'altro su delle diagonali deboli non è mai il massimo della vita nonostante diciamo il guadagno di materiale quindi per evitare tutto ciò il bianco gioca re in f2 questa giocata è geniale b per c4 o finalmente si sviluppa anche l'alfiere campo chiaro a rocco corto adesso è il momento di portare in gioco tutti i pezzi e il cavallo va sulla naturalissima e2 attenzione che adesso anche il nero si deve sviluppare che un pochettino a corto di spazio sembrerebbe esserci questa però poi il cavallo dove va qui non può andare come non può andare sembrerebbe esserci questa ma l'alfiere alla fine cosa fa su questa diagonale allora il nero opta subito di cavallo bd7 che però ha un piccolo problema toglie il collegamento tra la donna e il pedone di 6 quindi dopo che il bianco e la partita va proprio così dopo che il bianco cattura qui beh se adesso mi ricatturi qui io ti catturo con l'alfiere e riguadagno il pedone quindi il nero chiaramente non è stata una svista da parte del nero ma era voluta una giocata voluta il nero prende tempo con cavallo e5 attaccando il l'alfiere ma c'è la mossa intermedia di pedone per f7 scacco chiaramente ragazzi non sono svizze sono tutte mosse collaudate re in h8 e adesso questo attacco su questo alfiere rimane farlo indetreggiare potrebbe essere rischioso perché qui addirittura il nero potrebbe forse anche avanzare e murare vivo il nostro il nostro alfiere quindi viene giocata b3 e infatti il computer consiglia o donna b3 o b3 e su b3 il nero è felicissimo di togliere la coppia di alfieri dal bianco tam siamo in questa posizione dove il bianco ha un pedone in più abbiamo sei pedoni contro 5 del nero e la struttura pedonale non ti saprei dire qual è il migliore perché è vero che qui abbiamo tre isole di pedoni a testa qui abbiamo un pedone arretrato in d6 che è una debolezza anzi sembra che prima o poi il bianco riesca a fare questa manovra di portare un cavallo il d5 quindi se dovessi scegliere chi con quale colore giocare senza dubbio direi il bianco torre per f7 e adesso diciamo che il nero crea minacce possono esserci in futuro chiaramente ora questa casa è controllata dal cavallo in futuro è attacchi di questo tipo o cavallo g4 immediata e quindi onde evitare qualsiasi cosa il bianco decide di giocare re g1 da togliere re dalle varie minacce cavallo d7 questo cavallo vuole riposizionarsi e lasciare tutta la posizione al nero probabilmente questo cavallo andrà in e5 dove farà pressione su c4 che attualmente è una debolezza perché perché un modo per proteggere questo c4 è donna b3 ma la donna da b3 è molto passiva perché difende questo pedone e poi in un futuro molto prossimo ci potrebbe essere torre b8 chiaramente ben preparata e è un problema l'attacco sul punto c4 è un problema il bianco se ne frega e gioca h4 e qui qualcuno potrebbe dire non poteva giocare subito cavallo d5 il computer consiglia questo tipo di consecuzio e adesso torre b8 va bene si si poteva anche giocare ma h4 è bella probabilmente l'idea è quella di dare spazio alla torre chissà se la torre potrà uscire far danni ma anche sostenere l'alfiere che potrà andare da g5 e ottenere una buona casa cavallo in e5 ed eccolo l'attacco di cui avevamo paura ma ovviamente il bianco aveva già pensato a questo attacco e come si difenderà semplicemente non si difenderà contraattacca alfiere g5 minaccia sulla donna donna in f8 e ancora una volta è più un problema difendere questo pedone che lasciarlo andare talvolta bisogna lasciarlo andare anche perché fino a prova contraria siamo in vantaggio di materiale abbiamo un pedone in più quindi chi se ne frega cavallo d5 rendiamo questo cavallo un mostro come dice il nostro mitico andrea stella e dopo torre b8 h5 alfiere d8 qui il nero chiede un cambio di di pezzi ma perché il nero non ha voluto catturare subito questo questo pedone guarda la barra del bianco come sale vediamo se riesce a trovare la trovata mitica che confuta questa mossa semplicemente non c'è almeno apparentemente sto vedendo h5 h6 cavallo in eva f4 ok forse ci sono cose di questo tipo va bene molto difficile da vedere pensavo ci fosse una tattica nell'area più forte ma no niente non c'è viene giocata torre b8 h5 e alfiere d8 chiedendo il cambio dell'alfiere nero per cercare di avere il controllo sulle case scure nel case scure l'abbiamo già detto prima sono molto deboli per il bianco quindi se il nero riesce a trovare gioco su queste case qual è il problema però che se il nero perde l'alfiere scuro anche lui perde la capacità di attaccare sulle case scure no quindi il computer consiglia anche una tranquilla alfiere per d8 il bianco non se la sente di cedere l'alfiere campo scuro e lo ritira in d2 dove comunque da d2 fa un ottimo gioco di difensivo e di controllo cavallo per c4 finalmente questo pedone viene catturato con attacco su questo alfiere che non possiamo assolutamente perderlo e alfiere c3 l'alfiere trova un ottima diagonale qui il nero gioca h6 una possibilità interessante per il nero è sempre alfiere a 5 con l'idea di cambiare gli alfieri quindi prima o poi questi alfieri sarebbero potuti cambiare volendolo ma h6 è la mossa che viene giocata a questo punto si va un po di tattica qui c'è un tatticismo una minaccia di tattica che è donna c1 l'idea è quello di rimuovere l'alfiere dando scacco su g7 affinché poi si possa attaccare questo cavallo scoperto in c4 re in g8 torre b1 cambio di torri donna per e adesso alfiere in 6 l'alfiere vuole rimuovere questo importantissimo cavallo in d5 questo è senza dubbio il pezzo più forte del bianco che è un attaccante è un certo punto il nero dice senti io ti do la coppia di alfieri cioè rinuncio alla coppia di alfieri ma ti toco quel cavallo che è troppo forte donna d3 difendendosi al cavallo che minacciando con l'avversario cavallo b6 ritirando l'alfiere e portando un doppio attacco su questo punto a questo punto il bianco decide di dare il cavallo per il cavallo un'altra possibilità dice perché non ha fatto cavallo in e per f4 avrebbe sorretto il proprio cavallo ma semplicemente qui il nero non si sarebbe fatto problemi a dare la torre per due cavalli no quindi motivo per cui questa soluzione non funziona qui bisogna dare il cavallo ritirarlo non so quanto senso avrebbe quindi cavallo per b6 alfiere per b6 tadadadam c'è un problema questo alfiere alla fine tanto che ha fatto è riuscito a mettersi sulla diagonale del nostro re generalmente in questi casi come si gioca generalmente si cerca di bloccare questo pedone non so se avevamo un cavallo bellissimo in in b2 tac cavallo che saltava in c4 muravamo questo pedone che non poteva spingere il problema è che su c4 attualmente non ci sono pezzi leggeri chiaramente non possiamo metterci la donna perché c'è l'alfiere quindi siamo costretti prima o poi a ricevere questo attacco di scoperta che è molto forte perché dopo c4 scacco c'è scacco ma attacca anche la donna quindi bisogna fare qualcosa il bianco dice senti chi se ne frega io questo attacco di scoperta se alla fine non c'è nulla nell'aria me lo posso anche prendere quindi donna per a6 toglie la minaccia di questo pedone in a il pedone nostro in a ora è pronto andare a promozione ma c'è sempre l'attacco di scoperta ora l'attacco di scoperta immediatamente non funziona perché scacco di scoperta chi è che da scacco l'alfiere il bianco potrebbe rimuovere il pezzo che da scacco motivo per cui il nero gioca prima donna b8 per difendere l'alfiere e poi fare questo scacco di scoperta re in f2 come ti è venuto non mi sarebbe mai venuto in mente di giocare re in f2 in questa situazione mai poi mai chiaramente credo che lo scopo sia quello di rendere libera no la torre però ref2 deve essere un po un geniaccio pazzo vediamo qui che cosa dice il computer il computer dice sia a 5 in realtà ref2 come seconda possibilità ma la mossa che mantiene il vantaggio al 100% è a 5 ref2 c4 scacco e però questo scacco è sbagliato ecco qui guarda guarda la barra di valutazione qui siamo pratenete in parità dopo c4 la barra sale a favore del bianco perché perché questo scacco in realtà è facilmente parabile con alfiere d4 basta finito ora non ci sono più attacchi lungo la diagonale basta torre b7 torre in d1 sorreggiamo questo alfiere il più possibile alfiere f7 a5 e ora parte l'avanzata del nostro pedone se da una parte parte l'avanzata del nostro pedone dall'altra può avanzare quello del nostro avversario alfiere c7 re in g1 ci vuole sempre coraggio anche qui forse l'avrei messo in f1 cosa dice il computer dice cavallo c3 in questa situazione torre a1 però non so non mi piace tenere su questa diagonale ma in realtà sta al sicuro re in g1 re h7 cavallo c3 torre in b3 cercando di tenere un po' di situazioni cavallo in d5 e adesso alfiere per d5 e per d5 torre b1 e qui siamo costretti a tac tac la donna avversaria è entrata in prima traversa e dando scacco al re che si deve spostare si sposta su case scure per fortuna questo pedone è bloccato quindi l'alfiere prima di fare qualcosa dovrebbe fare tac 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 sono tre mosse che possono essere abbastanza decisive perché noi magari in tre mosse riusciamo a arrivare praticamente a promozione ma vediamo come continua la partita qui il nero gioca donna d3 e visto la barra del bianco dopo donna d3 posizione di parità donna d3 è finita cosa diceva il computer qui semplicemente donna c1 diceva anche donna f5 e diceva anche donna e1 queste erano le tre possibilità per il nero dopo donna d3 capiamo perché sembra buona perché la donna sorregge e attacca all'alfiere in realtà questa spinta non si può fare perché ti auto inchiodi quindi è solo un attacco all'alfiere ma c'è 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 una tattica che in partita non viene vista adesso ma alla mossa successiva o forse probabilmente viene vista ma non si sente di giocarla che era alfiere g7 e sulla cattura c'era donna b8 questo alfiere cadeva continuiamo a dare scacchi intanto avanziamo con il nostro pedone in partita viene giocata donna a7 per tenere l'alfiere minacciare questo alfiere e fare sempre il giochino di sacrificio di alfiere e adesso c3 c3 e qui ci vuole coraggio ad entrare in queste situazioni perché io dico ok e mo come lo fermi sto pedone devi sacrificare a un certo punto l'alfiere come diamine lo fermi quel pedone non si può fermare devi solo sperare di riuscire ad arrivare in tempo anche tu e ora alfiere per g7 donna c4 perché il nero non se la sente di accettare questa entrata in questo in questo tipo di situazione è perché qui è scacco qui il bianco può guadagnare un sacco di tempi dando può intanto mangiare tutto ciò che può mangiare rg8 può cercare di avvicinarsi sempre al re avversario robe varie sto inventando però può riuscire tranquillamente secondo me a guadagnare un tanto spazio e tanta possibilità di avanzare per esempio qui ora sto inventando possiamo fare possiamo fare ok con donna c8 possiamo supportare la spinta in a6 quindi il re deve scappare a6 ora se lui gioca c2 noi sicuramente possiamo andare a dare ancora scacco anche il computer dice scacco donna c7 re h8 continua a dire scacco anziché di avanzare continua a dire scacco re d8 re h7 a7 e a questo punto sulla promosione in donna dice che c'è un matto in tre donna e 7 giustamente il re non può avanzare il re è costretto ad andare indietro e qui la partita finisce prima chiaramente l'ultima difesa è questa ora qui è l'esperienza del nero che dice guarda se ora entro in questa situazione qui nonostante a me mancano due caselle per promuovere e al mio avversario ne mancano tre qui perdo io la partita perché tra l'altro quando il nero andrà a promozione non ha uno scacco subito per dare scacco ci sarà bisogno di un'altra mossa quindi in realtà i tempi sono 1 2 e 3 come i tempi che ha il bianco ma il bianco quando va a promozione va praticamente con scacco e poi abbiamo visto che è matto quindi grande esperienza da parte del nero che decide di giocare donna c4 di non accettare però come puoi vedere dalla barra neanche donna c4 funziona qui il bianco trova una situazione easy per vincere la partita che è donna d4 ti chiedo il cambio delle donne proteggo il mio alfiere ti attacco il pedone chiaramente la donna non può per dire ok io mi tolgo vado in a6 così se tu mi catturi qui io ti catturo qui no neanche questo funziona ma abbiamo visto che c'è alfiere f8 con l'idea di donna g7 matto praticamente imparabile quindi il cambio delle donne è forzato e dopo il cambio delle donne puoi ben capire che qui abbiamo 5 pedoni contro 3 la partita è finita alfiere per a5 abbiamo 4 pedoni contro 3 ma ora il bianco riesce tranquillamente a venire a prendersi questo pedone vediamo come continuata giusto per curiosità alfiere a3 alfiere b4 alfiere c1 alfiere c5 f4 re f3 ok questi pedoni creano una muraglia importantissima per non far avvicinare il re avversario così ora noi possiamo andare a catturare l'alfiere difende e adesso l'idea di portare l'alfiere in d4 e finalmente prenderci quel pedone su f5 il nero abbandonò questo pedone cade anzi cade anche questo e buonanotte a tutti precisione del bianco del 98.5 per cento è stata una bella partita 2 a 2 devo dire meritato che però purtroppo non ci aiuta molto in questa classifica e in questo europeo in generale penso che comunque sia un'ottima esperienza un ottimo campo di battaglia e niente speriamo che oggi come al solito si riesca sempre a fare di meglio ci vediamo domani con un altro nuovo video ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao